un saluto a tutti da autogold.it questa diretta per parlare di olio motore in particolare come scegliere l'olio motore giusto per la nostra auto in base diciamo alle nostre esigenze innanzitutto che cos'è un olio motore un olio motore appunto è un lubrificante che ha la funzione di proteggere il motore interponendosi diciamo tra i componenti metallici pistone cilindro l'olio motore ha inoltre una funzione oltre che protettiva lubrificante ha una funzione di raffreddare il motore quindi è molto importante per proteggere e tenere sotto controllo le temperature del motore ma andiamo a vedere adesso proprio come scegliere l'olio motore adesso qui non ci vogliamo addentrare nelle specifiche dei singoli costruttori delle specifiche per filtri antiparticolato eccetera ma vogliamo dare delle indicazioni molto pratiche molto concrete in base appunto al nostro per il nostro veicolo per il posto veicolo quindi in base allo stile di guida in base alle esigenze del motore e anche in base al clima quindi la scelta dell'olio motore è decisiva per garantire la massima protezione del veicolo e anche la massima durata è una cosa molto importante scegliere l'olio motore giusto però è molto importante è fare alcune considerazioni perché l'olio giusto si deve scegliere in base innanzitutto al fatto se il veicolo sia nuovo o il veicolo sia più datato più chilometrato o se il veicolo sia o meno ancora in garanzia se il veicolo è ancora in garanzia consigliamo assolutamente di utilizzare lubrificanti che abbiano tassativamente le specifiche necessarie indicate dal costruttore qui vedete ad esempio l'olio liquimori top tech 4310 questo olio è specifico per motori fiat alfa romeo e jeep euro 6 in particolare quindi motori euro 6 jeep alfa romeo fiat e naturalmente anche lancia quindi se state in garanzia rispettate tassativamente quanto indicato dal costruttore per cui questo ai fini di mantenere la garanzia stessa quindi dovete assolutamente utilizzare durante i due anni o anche se avete un'estensione di garanzia lubrificanti che siano indicati nelle specifiche dal costruttore non dovete naturalmente necessariamente utilizzare l'olio originale della casa che spesso e volentieri tra l'altro è solo di qualità diciamo media ma potete utilizzare oli di qualità superiore come ad esempio in questo caso il liquimoli 0v30 4310 terminato il periodo di garanzia possiamo iniziare a fare diciamo riflessioni di tipo diverso è molto importante fare una valutazione che sia ponderata principalmente in base al clima ai tipi di tragitto che si percorrono e allo stile di guida sono aspetti assolutamente fondamentali perché qui entra in gioco il discorso della viscosità dell'olio motore adesso andiamo a fare un esempio se la vostra auto è indicato ad esempio un olio di gradazione 5 v 30 in questo caso vedete inquadrato un eccellente olio 5 v 30 il royal purple hps però questa viscosità non è detto che sia adatta alla vostra auto o in particolare al vostro stile di guida o al clima in cui vivete o utilizzate l'auto perché se di base ad esempio la vostra auto richiede 5 v 30 ma magari abitate in una località magari in sicilia dove fa caldo molto caldo tutto l'anno 5 v 30 potrebbe essere una viscosità a caldo insufficiente quindi potrete in questo caso utilizzare ad esempio un olio 5 v 40 ecco qui inquadrato ad esempio il liquimoli moli già in 5 v 40 quindi aumentare la viscosità a caldo se se vivete in una zona dove il clima è mite generalmente tutto l'anno oppure aumentare sempre la viscosità a caldo se percorrete in prevalenza tra gitti extra urbani quindi tra gitti lunghi quindi quando utilizzate l'auto la utilizzata ad esempio per almeno tre quarti d'ora facciamo un esempio vuol dire che il motore sarà sempre a temperatura e potete quindi passare da olio 5 v 30 ad olio 5 v 40 stessa identica considerazione se amate la guida sportiva quindi con il motore alla fine diciamo viene stressato scalda molto può essere utile aumentare utilizzare oli con viscosità a caldo maggiore sempre naturalmente mantenendosi su oli di alta qualità perché la viscosità in sé non dice assolutamente nulla sulla qualità di un olio ma qui parliamo che naturalmente sempre esclusivamente di lubrificanti di alta qualità quindi la parità di qualità può essere utile aumentare la viscosità a caldo uno se vivete in zone dove fa caldo un po' tutto l'anno due se oppure se percorrete lunghi tragitti in netta prevalenza lunghi tragitti extra urbani o terza possibilità se amate la guida sportiva quindi con il motore che scalda molto allora ha senso aumentare appunto il livello di viscosità a caldo facendo il discorso inverso una gradazione 5 v 30 se di base la vostra auto prevede questa gradazione o 5 v 40 può essere eccessivamente addirittura viscoso se vivete invece in zone dove fa freddo quindi se avete un'auto che di base richiede ad esempio 5 v 40 durante i mesi invernali potrete utilizzare ad esempio un olio 0 v 30 in modo tale da avere una lubrificazione più rapida alle basse temperature riducendo quindi l'usura quindi stiamo capendo già adesso che il clima e lo stile di guida e anche il tipo di tragitto di tragitti che normalmente si percorrono vanno ad influenzare molto la scelta della viscosità dell'olio motore questo è un fattore molto importante che purtroppo non viene molto tenuto in considerazione dalle case automobilistiche infatti le indicazioni che trovate nel manuale della vostra auto purtroppo valgono sono indicazioni generali e direi anche generiche perché non tengono conto appunto del clima dello stile di guida e del tipo di tragitto che normalmente si esegue con la con appunto con la propria auto quindi ricordiamoci sempre che temperatura ambientale e viscosità sono strettamente collegate per cui la scelta va ponderata in base a questo fattore molto importante poi vorremmo fare una considerazione sugli oli cosiddetti long life come sapete le case automobilistiche ormai consigliano cambi olio addirittura intorno ai 35 mila chilometri è una cosa che tecnicamente a nostro avviso a nostro modesto avviso non sta in piedi perché tenere un olio per 35 mila chilometri vuol dire avere un olio che per almeno ci teniamo bassi 10 15 mila chilometri non può avere una prestazione lubrificante sufficiente e adeguata se andate a vedere ad esempio il tbn cioè la capacità di neutralizzare gli acidi di un olio sugli oli long life normalmente questa indicazione è diciamo non particolarmente elevata parliamo di 6 7 il valore del tbn di un olio long life contro ad esempio 10 di un olio come l'olio a parpo l'hps 5 v 30 quindi se anche utilizzate un olio originale comunque con le specifiche e tutto quanto del costruttore ed è indicato come olio long life quindi anche per 30 35 mila chilometri assolutamente non tenetelo per tutto questo periodo ma tenetelo al massimo per 20 mila chilometri o massimo 18 mesi questa indicazione assolutamente importante perché da questo dipende la durata e l'affidabilità del vostro motore mai superare i 20 mila chilometri con l'olio motore qualsiasi sia anche long life perché in realtà non esistono gli oli long life sono oli in realtà che non possono assolutamente durare 35 mila chilometri per non parlare poi del discorso del filtro dell'olio e del filtro dell'aria motore che tenere di 35 mila chilometri naturalmente è tecnicamente sbagliato e si tratta sostanzialmente di andare a incidere negativamente sull'affidabilità di un motore che dipende in larghissima parte dalla qualità dell'olio motore perché naturalmente un olio motore tenuto per troppi chilometri cosa succede succede che gradualmente perde le sue performance lubrificanti performance antiattrito non è più in grado di lubrificare a dovere né di raffreddare i cilindri come si deve per cui si ha gradualmente una maggiore usura del motore il motore si inizia a usurare l'olio stesso quindi c'è maggiore usura le particelle metalliche vanno ad incidere vanno ad inquinare l'olio motore stesso il quale assolutamente perde ancora più rapidamente le sue prestazioni e va a creare naturalmente un'usura graduale del motore ed è per questo che a volte troviamo sul mercato motori di 100 mila chilometri che sembrano nuovi perché è stata fatta una dei cambi olio sia con oli motori adeguati e sia agli intervalli giusti l'intervallo giusto come dicevamo non è certo 30 35 mila chilometri ma 15 massimo 20 mila chilometri o una volta all'altro se volete essere precisi al massimo indipendentemente dall'olio che utilizzate e dai chilometri che fate se ne fate pochi un cambio d'olio annuale è l'ideale e vedrete che anche dopo 15 anni il vostro motore sarà sempre perfetto poi possiamo fare tutto un discorso sulla qualità degli oli motore naturalmente sono influenzati dalla qualità delle basi sintetiche che è la base minima per ottenere un olio di qualità ma non basta ci possono essere oli di alto livello tecnico con stessa purezza di basi sintetiche ma non hanno le stesse prestazioni per quale motivo il motivo è semplice hanno un pacchetto di additivi completamente diverso additivi anti schiuma anti attrito anti ossidazione detergenti ed è per questo che ad esempio l'olio royal purple xpr in questo caso vedete il 10 v 60 è in assoluto l'olio con le più alte prestazioni anti attrito sul mercato questo non è solo dovuto al fatto che sono basi sintetiche purissime ma è dovuto all'additivo sinel che che insieme diciamo un pacchetto di additivi che consente prestazioni anti attrito incredibili anche a temperature estreme per quanto riguarda amiceli qui molice è il moligen che è un olio di alto livello anche questo contiene l'additivo moligen per questo l'olio si presenta di colore verde e appunto ha elevate performance anti attrito quindi per costruire per realizzare un olio motore di qualità non bastano solo le basi sintetiche di qualità ma occorrono gli additivi giusti ed è questo che fa la differenza tra un olio anche che magari è totalmente sintetico puro e un altro con le stesse basi sintetiche pure per cui quindi non basiamoci soltanto sulla qualità sintetica che comunque è il minimo indispensabile per avere un olio di altissimo livello ma è quello che conta poi è molto anche la formulazione interna dell'olio quindi gli additivi che vengono aggiunti perché un olio è composto da base lubrificante più additivi che vengono aggiunti per determinati scopi anti ridurre attrito l'ossidazione per tenere il motore più pulito e quant'altro quindi riassumendo in conclusione di questa diretta possiamo dire questo due cose la scelta dell'olio motore naturalmente noi consigliamo sempre utilizzate oli di alta qualità perché fa davvero la differenza tra la vita del mondo tra vivere bene e il sopravvivere da parte del motore con un olio di alta qualità cambiato poi nei tempi sostituito nei tempi giusti nel chilometraggio giusto è quello che garantisce appunto lunga vita e lunga efficienza cioè un motore che dura non solo tanti anni ma dura in perfette con una perfetta efficienza in questi tanti anni ecco per capirci quindi tanti anni di vita ma tanti anni di vita efficiente e performante perché ci possono essere anche motori di 100 mila chilometri mal diciamo mal tagli andati male con intervalli lunghi con oli di bassa qualità e ancora sopravvivono ma un conto è sopravvivere un conto e mantenere invece il motore in perfetta efficienza e dicevamo appunto se vi siete collegati solo adesso che la scelta dell'olio motore deve essere fatta considerando lo stile di guida che si ha il tipo di tragitto i tipi di tragitti che normalmente si percorrono quindi un conto è utilizzare l'olio spesso l'auto spesso in città un conto è utilizzarla spesso in percorsi extraurbani quindi la viscosità può cambiare una viscosità più bassa rispetto a quanto a quanto indicato nel manuale del veicolo se utilizzate spesso l'auto in città o se ad esempio dove vivete fa c'è un clima generalmente rigido ecco per cui in inverno noi consigliamo di utilizzare oli che a freddo abbiano una viscosità più bassa ad esempio utilizzate un olio 0v40 o 0v30 al posto di olio 5v40 viceversa in inverno in estate potete aumentare la viscosità dell'olio a caldo quindi ad esempio un olio 5v40 al posto di 5v30 se fa caldo oppure se avete se utilizzate il veicolo per tragitti molto lunghi oppure ancora se avete una guida sportiva per qualsiasi necessità di consigli e chiarimenti sugli oli motore naturalmente contattateci indicateci esattamente il veicolo che avete sia esso auto sia moto e sia anche camion e quant'altro persino imbarcazioni possiamo indicazioni anche se avete un veicolo navale quindi qualsiasi veicolo avete possiamo darvi consigli e chiarimenti tutta la gamma di oli la trovate al link che abbiamo inserito qui nella descrizione del sito e ripeto se avete necessità di consigli di indicazioni per il vostro veicolo siamo sempre ben volentieri a disposizione l'olio motore è la vita dell'auto senza un olio motore di adeguata qualità e soprattutto non solo di adeguata qualità ma adatto alla vostra auto ma nel senso adatto al vostro stile di guida alla località al clima ambientale e appunto al tipo di tipologia di tragitti che percorrete è veramente la base fondamentale per far durare al meglio il motore e la vostra auto che dopo tanti anni naturalmente ringrazierà se avete fatto avete utilizzato una chimica di alto livello e soprattutto anche con intervalli di sostituzione dell'olio adeguati quindi molto più brevi di quanto viene indicato dai costruttori delle case automobilistiche perché come abbiamo detto tenere un olio per 35 mila chilometri è senz'altro la prima cosa che fa usurare il motore quindi non date non seguite questa indicazione 35 mila chilometri ma accorciate quanto meno a 20 mila chilometri l'intervallo di sostituzione dell'olio bene per il momento è tutto come sapete noi spediamo in tutta italia e in tutta unione europea a privati quindi appassionati ma anche officine aziende enti e quant'altro un saluto a tutti grazie per aver assistito a questa diretta se avete domande commentate il video e vi daremo ben volentieri tutte le indicazioni a voi necessarie ciao a tutti da autogold.it grazie a tutti Grazie per la visione!